Pochi giorni alla terza edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, centinaia gli eventi in tutta Italia. Ecco le principali novità di quest'anno. Per 17 giorni una corrente di idee ed energie si diffonderà in decine di città e luoghi di incontro per lasciare dietro di sé una nuova consapevolezza e senso di responsabilità. Alla sua terza edizione al via il Festival dello Sviluppo Sostenibile, dal 21 maggio al 6 giugno, con oltre 700 appuntamenti tra convegni, mostre, spettacoli, attività sportive e rassegne culturali organizzate dalla società civile per portare all'attenzione pubblica riflessioni e soluzioni alle attuali emergenze sociali, economiche e ambientali. In calendario anche 17 incontri di rilevanza nazionale, in collaborazione con gli aderenti e i gruppi di lavoro dell'Alleanza. Tre i grandi eventi organizzati dall'ASVIS, tutti a emissioni zero. In apertura a Roma è il dibattito sul ruolo dell'Europa nei nuovi scenari globali. Seguirà l'evento a Milano dedicato alle imprese e per chiudere la manifestazione alla Camera l'intervento dell'economista Jeffrey Sachs. Anche quest'anno partecipa la rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile e le città di Bari, Bologna, Milano, Palermo, Parma, Roma e Torino ospiteranno i Festival Cittadini. Attraverso i canali social e la web tv ogni giorno presenteremo cronache, reportage, e approfondimenti per raccontare cosa si muove nel paese.